Esatto, qua ti prendi un tempo, lo guardi e poi vieni, avanti. Andrea, mi dispiace, ero così convinto di essere arrivato al traguardo. Pensate che ho anche sognato che l'andavo a prendere l'aeropo. Invece, questa è la zona che è arrivata. Bene, ok. Però è più bello se ti fermi un passo indietro come quadratura. Io. Sì, qua. Se ti fermi qua così. Va bene, giriamo. E' più bello qua. Perché è più composta. Perché da sotto è una tenda che è intera. Va bene. Andiamo, giriamo.